È morto all'ospedale di Terni dopo una grave malattia il giudice Maurizio Santoloci, magistrato di Cassazione, 60 anni, stato consigliere di diversi ministeri per l'ambiente, poi membro della Commissione per la Revisione del Testo Unico e dell'Osservatorio sui crimini ambientali. Il giudice era stato recentemente consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse e, da circa 30 anni, insegnava presso le scuole nazionali del Corpo Forestale. Direttore dell'Ufficio Legale della LAV, il giudice è stato anche autore di più di 30 pubblicazioni sulle tematiche del diritto ambientale adottate da pubbliche amministrazioni e scuole di polizia. A Terni, dove era molto apprezzato anche per le sue doti umane, aveva seguito come GIP alcune delle vicende giudiziarie più gravi degli ultimi anni, come l'omicidio di David Raggi. Un giudice coraggioso che oggi Terni piange, un magistrato dedito al lavoro, una persona di spessore, così lo ricorda il sindaco Leopoldo di Girolamo. Si è sempre speso a difesa della comunità, mettendo a servizio della giustizia le sue indubbie capacità.